Assoluzione bis per il 32enne che il 16 maggio 2007 in sella ad una moto travolse e uccise il cantante barese Mimmo Bucci sul lungomare di Bari. Il GUP Susanna De Felice ha assolto Vito Nitti dal reato di omicidio colposo per non aver commesso il fatto. Sospeso invece il procedimento a carico dell'altro imputato, il 25enne Vita Antonio a Brescia, la cui posizione è stata stralciata perché è già dichiarato incapace di intendere e volere in altri procedimenti. Per Nitti si tratta della seconda assoluzione per la stessa vicenda. Il primo processo si è concluso nel 2010 con una sentenza passata in giudicato che ha assolto entrambi gli imputati. La procura ha poi deciso di riaprire il caso perché la Corte d'Appello sottolineò l'errata ricostruzione dei fatti. L'unico testimone oculare, infatti, aveva dichiarato che alla guida non c'era Nitti, così come contestato dall'accusa, ma a Brescia. Elemento distintivo l'abbigliamento dei due. Nella prima ricostruzione dell'accusa, infatti, Bucci era alla guida del suo scooter quando, uscendo dal molo San Nicola per imboccare il lungomare Nazario Sauro, fu travolto da una moto di grossa cilindrata condotta da Nitti a velocità sostenuta. Secondo la Corte d'Appello, Nitti era in realtà il passeggero. Il PM Ciro Angelillis ha quindi riformulato il capo di imputazione a carico dei due, riproponendo la nuova e corretta dinamica di quel 16 maggio 2007. Oggi una nuova assoluzione e ancora una volta la morte di Mimmo Bucci resta senza colpevoli.